Da Street Fighter V4 a V4SP avviene proprio una metamorfosi, che lo trasforma in un Time Fighter. Il nuovo Street Fighter V4SP ti consente di essere subito veloce. Fin dal primo giro è pronto ad aggredire il cronometro e ad abbattere ogni record. La qualità della frenata è straordinaria, così come la facilità nello scendere in piega, la leggerezza nei cambi di direzione e la tendenza a chiudere la linea. A tutto ciò si aggiunge una grande stabilità alle alte velocità garantita dall'aerodinamica e dalle sospensioni All-in Smart EC ereditate dalla Panigale V4, che assieme danno la giusta confidenza per spingere al massimo in pista. La dotazione specifica dello Street Fighter V4SP consente inoltre di ridurre il peso della moto di 3 kg rispetto alla Street Fighter V4S. Lo Street Fighter V4SP è equipaggiato con componenti allo stato dell'arte, derivati dalla superleggera V4. I cerchi a 5 razze sdoppiate in carbonio. Le pinze freno anteriori ti offrono grande modulabilità e ripetibilità nella performance. I cerchi in carbonio risultano più leggere di 1,4 kg rispetto a quelli forgiati in alluminio montati di serie sullo Street Fighter V4S e vanno a ridurre il momento di inerzia del 26% all'anteriore e del B 46% al posteriore, rendendo la moto sensibilmente più agile e leggera nei cambi di direzione e più incisiva nel chiudere le linee. L'impianto frenante è composto da pinze freno Brembo Stilema R, che garantiscono un'elevata potenza frenante, oltre ad un'eccezionale costanza di rendimento anche nel corso di una lunga sessione crometrata, dove la corsa leva-freno non necessita mai di essere recuperata. Si frena con un solo dito, proprio come sulle nostre factory Superbike. E poi c'è il motore, il Desmo 16 stradale da 208 CV e 123 Nm di coppia. È fluido e godibile ai medi resini, ma esplosivo agli alti. Nel V4SP monta la frizione a secco STM Evo Superbike, che garantisce una più efficace funzione anti-saltellamento anche nelle scalate più aggressive, con una maggiore fluidità in tutte le fasi off-throttle, indispensabile per essere efficace in pista nella guida al limite. Senza dimenticarne il sound, tipico delle Ducati da gare. L'equipaggiamento di questa moto è completato da una serie di componenti sofisticati, come le pedane pilota a rizoma in alluminio ricavate dal pieno, regolabili per personalizzare al millimetro la posizione di guida. Il parafango anteriore in carbonio e le parti a corredo utilizzabili nei track day, come la cover frizione aperta in carbonio e i tappi per la rimozione del porta-targa. Lo Street Fighter V4SP è equipaggiato con il pacchetto elettronico più evoluto, derivato da Ducati Corse, che permette di personalizzare il setup della moto in base al circuito e al proprio stile di guida. E se tutto questo non fosse abbastanza, nel catalogo accessori Ducati Performance è disponibile lo scarico Racing Akrapovic in titanio, che porta la potenza a 220 CV e riduce il peso di ulteriori 6 kg. Ducati Street Fighter V4SP, un vero Time Fighter! Grazie! 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 Grazie!